Tragedia questa mattina a Leverano. Un bambino di appena due anni stato schiacciato da un mobile e porta tv mentre era all'interno della sua abitazione insieme ai familiari. Il piccolo stava giocando in casa. Approfittando di un momento di disattenzione della mamma, che era sola in casa perci il marito era al lavoro e l'altro figlio all'asilo. Si diretto nel soggiorno, salito sul carrello sul quale era posizionata la tv. Un vecchio modello col tubo catodico e, nel tentativo di accenderla, l'ha fatta cadere. L'apparecchio l'ha schiacciato. Inutile l'intervento dei familiari che immediatamente hanno chiesto aiuto e allertato i medici del 118. All'arrivo dei sanitari purtroppo per il bambino non c'era più nulla da fare. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della stazione di Leverano. Insieme ai colleghi della compagnia di Campi Salentina. E i militari della sezione rilievi che dovranno eseguire i primi sopralluoghi e rilievi fotografici per chiarire la dinamica dell'incidente domestico. I familiari in preda alla disperazione sono sotto shock.